Buongiorno a tutti amici e bentornati qui sul canale per una nuova video recensione dal vostro Emanuele. E quanto tempo che non giravo in esterna, ma per lui, il Realme 7, faccio anche questo sforzo, ovvero di affrontare il gelo e il freddo invernale, perché lui è un medio di gamma davvero eccellente, uno di quelli che si fa apprezzare ed amare proprio durante l'utilizzo, perché è davvero affidabile ed equilibrato. Ma prima di cominciare sapete già cosa fare e se non lo sapete ve lo ricordo io, quindi iscrizione al canale, like al video e soprattutto clic sulla campanella per non perdere le notifiche dei video futuri che verranno caricati. E detto ciò, mettetevi comodi perché oggi parliamo di lui, Realme 7. Nella cultura popolare cinese il numero 7 è definito un numero sfortunato, basti pensare ad esempio a Xiaomi che con i suoi top di gamma della serie Mi è direttamente sorpassato questo numero, infatti è passata dal Mi 6 al Mi 8 e via discorrendo fino ad arrivare a recentissimo Mi 11, ma invece Realme ha voluto sfidare la sorte proponendoci proprio questa numerazione con il Realme 7 e fratello maggiore Realme 7 Pro e devo dire che ha fatto benissimo perché questo 7 è davvero vincente, uno smartphone medio di gamma, completo, affidabile e che vi straconsiglio. Potrei chiuderla qua alla recensione, invece no perché ve lo racconto da cima a fondo, partendo proprio dal feeling che ci restituisce una volta che lo prendiamo in mano. Non abbiamo materiali premium, infatti parliamo di una scocca e di un perimetro completamente realizzati in plastica ma devo dire di ottima fattura. Ma soprattutto qui la back cover gode di una doppia lavorazione di questa plastica, una parte opaca ed una parte invece lucida che quando colpita dalla luce diretta del sole ci restituisce dei giochi di luce davvero fantastici. E poi la back cover è molto molto graziosa perché l'unico elemento di disturbo è il comparto fotografico che troviamo qui sul posteriore che si compone di quattro ottiche ed il flash led. Per quel che riguarda i profili sulla parte superiore non troviamo nulla, mentre specularmente abbiamo l'ingresso jack da 3,5 mm, il microfono principale di sistema. Abbiamo poi l'ingresso USB Type-C per la ricarica del dispositivo, niente uscita video ma abbiamo però il supporto OTG per chiavette ed accessori vari. Ed infine abbiamo poi lo speaker di sistema, uno speaker di tipo mono che tutto sommato ci restituisce un buon volume d'ascolto al netto però di una mancanza di bassi che non sono proprio così presenti e corposi. Ma poco male perché appunto avete il jack da 3,5 mm per sfruttare i vostri auricolari preferiti. E dico vostri perché in confezione non abbiamo nient'altro che lo smartphone, una coverina di protezione, il cavo di alimentazione e il relativo alimentatore, oltre che naturalmente manualistica, spillino ed infine anche una pellicola protezione del display del vostro smartphone. Con lavorazione 2.5D e trattamento anti-impronta e soprattutto, e questo si è rivelato molto gratuito, se chiami da rete Iliad, se chiami da altra rete potrai essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. Sul profilo sinistro troviamo il bilanciere del volume e del carellino delle sim, che è in grado di ospitare due sim in formato nano più un ulteriore slot per la memoria microSD con supporto fino a 256 GB. Pertanto non dovrete rinunciare alla funzionalità del dual sim dual standby per espandere la memoria interna. Oltre a questo devo dire che le sim vanno entrambe in formato LTE, quindi 4G, seppur io personalmente non sono riuscito mai ad agganciare il segnale 4G+. Non so se è un mio problema o proprio del telefono, posso però dirvi che con l'operatore Iliad ho raggiunto velocità di navigazione davvero straordinarie, praticamente al pari di smartphone top di gamma. Oltre a questo non ho mai avuto alcun tentennamento per quel che riguarda la ricezione del segnale, appunto la fluidità e navigazione in generale, ma soprattutto anche le chiamate sono sempre state ricevute in maniera più che chiara e cristallina. Sul profilo destro invece troviamo il pulsante di accensione incastonato in una piccola scala natura, questo perché il pulsante incorpora anche il sensore per impronte digitali, per lo sblocco del telefono. E questo a mio avviso è un grosso vantaggio, non solo di design perché ci regala proprio un aspetto premium di questo dispositivo, nonostante lui non lo sia, ma soprattutto perché è molto molto comodo e decisamente rapido nello sblocco. Affidabile 10 volte su 10 sia con mano destra che con mano sinistra, complice la posizione che è davvero stata sistemata praticamente in maniera corrispondente al nostro dito, nel mio caso sulla mano sinistra nell'indice oppure direttamente nel pollice della mano destra. Parliamo di un terminale non propriamente compatto e quindi non tanto maneggevole, infatti abbiamo dimensioni pari a 162,3 x 75,4 e 9,4 mm di spessore per un peso di 196,5 grammi. Un peso che potrebbe sembrare eccessivo considerando che abbiamo una scocca in plastica, ma è totalmente giustificato da un'ampia batteria, ovvero un'unità da 5.000 a 1.000 ampere orari che supporta anche la ricarica rapida Dart Charge da 30 watt. Basti pensare che con soli 26 minuti riusciamo ad ottenere il 50% di ricarica, andando quindi a completare un'intera giornata di utilizzo, perché lui si spinge davvero così tanto a livello energetico che all'occorrenza, con un uso medio intenso e riuscite tranquillamente a coprire anche le due giornate di utilizzo. Ad ogni modo, logicamente, l'autonomia dipende effettivamente dal vostro reale utilizzo, io vi posso dire che sono sempre riuscito a totalizzare dalle 7 ore alle 7 ore e mezza di schermo attivo. Ma passiamo al frontale di questo Realme 7 che non si fa mancare davvero nulla, Infatti sul frontale godiamo di un bellissimo pannello da 6,5 pollici con tecnologia IPS e risoluzione Full HD+, ovvero 2400x1080 pixel che va a coprire una superficie del 90,5%. Parliamo di un pannello con definizione di 405 ppi protetto da un vetro Corning Gorilla Glass. Ma soprattutto abbiamo innanzitutto il supporto ai DRM Widevine di livello 1, il che significa che possiamo tranquillamente utilizzarlo per tutte le nostre applicazioni di streaming come Netflix, eccetera, eccetera, ma soprattutto abbiamo anche il supporto ai contenuti HDR, oltre che a un refresh rate a 90 Hz. La cosa che peraltro mi è piaciuta è che a livello software abbiamo la possibilità di settare noi personalmente il valore o su 60 Hz o su 90 Hz, ma al tempo stesso possiamo anche scegliere che sia direttamente il sistema ad adattare la giusta frequenza in base al contenuto che stiamo visualizzando sullo schermo, che si tratti di un semplice messaggio di testo oppure di un gioco che quindi generalmente richiede una maggiore fluidità. Abbiamo naturalmente a livello software anche tutta la personalizzazione per quel che riguarda la temperatura colore, ma a conti fatti com'è questo display? Beh, è davvero bellissimo, colori davvero eccezionali e soprattutto fedeli alla realtà. E soprattutto il piccolo punch hole posizionato qui nella parte superiore sinistra dove è incastonata la camera selfie non dà alcun fastidio per quel che riguarda proprio la frizione di contenuti multimediali. Ahimè però c'è da dire una cosa, perché è vero che abbiamo il supporto Widevine di livello 1, ma come capita per tanti altri cinesoni tra virgolette di questa fascia di prezzo, beh su Amazon Prime Video questa certificazione non viene riconosciuta. Devo dire che peraltro questo display goda anche di un'ottima ottimizzazione a livello proprio di cornici che non risultano poi così spesse, al netto però di un piccolo mento leggermente più pronunciato rispetto al resto dei profili. Ad ogni modo non abbiamo tasti fisici ma semplicemente virtuali, ma possiamo anche sfruttare le comode gesture per la navigazione a schermo. Mentre nella parte superiore della cornice troviamo un'ampia capsula auricolare oltre che ai sensori di prossimità e luminosità che anche in questo caso lavorano decisamente bene in ogni condizione. Per quel che riguarda i sistemi di sblocco abbiamo anche la possibilità di sbloccare il nostro Realme 7 direttamente con la funzione dell'Unlock Face. E devo dire che questa funzione va alla grande andando a sbloccare il dispositivo 10 volte su 10 anche in condizioni di buio totale. Oltre a questo abbiamo la possibilità di bloccare il display o di risvegliarlo semplicemente con un doppio tap direttamente sul display. Ma veniamo alla ciccia di questo Realme 7 che a conti fatti ci offre sotto il cofano il potente processore Mediatek Helio G95 che come specificato dall'azienda stessa nasce proprio come un processore da gaming riuscendo a performare su AnTuTu all'incirca 300.000 punti. Questo è un processore octa-core con un clock massimo di 2.0 GHz a cui si accompagna la GPU quad-core RM Mali-G76MC4 con clock fino a 900 MHz. A tutto questo naturalmente vengono affiancati 6 GB di memoria RAM LPDDR4 ma è disponibile anche la versione da 8 GB oltre che 64 oppure 128 GB di memoria interna UFS 2.1 appunto espandibile tramite microSD con supporto fino a 256 GB. Memorie quindi non super veloci ma che a conti fatti con l'ottimizzazione software che Realme ci mette a disposizione tramite l'interfaccia Realme UI 1.0 basata su Android 10 con patch di sicurezza aggiornate a dicembre beh questo Realme 7 è un vero fulmine, un vero petardo. Ogni gioco riuscirete ad affrontarlo in maniera più che eccezionale magari non proprio con dettagli grafici al massimo ma ad ogni modo l'esperienza sia base che quella più complicata del gaming vengono portate a termini senza alcun problema ma soprattutto senza alcun surriscaldamento in quanto Realme è integrato per questo Realme 7 un sistema di raffreddamento in fibra di carbonio. La cura del software da parte di Realme beh si evince anche dai piccoli dettagli grafici come ad esempio la bellissima animazione che va praticamente a circondare direttamente il panciolo dove è inserita la camera selfie e questo beh ragazzi è una chicca che a me piace tantissimo non solo per quel che riguarda lo sblocco ma anche proprio durante il passaggio da una camera all'altra ovvero dalla posteriore a quella anteriore. Completano il resto delle specifiche la presenza di un Wi-Fi a doppia banda Bluetooth 5.0 e soprattutto l'NFC che ci permette quindi i pagamenti in mobilità direttamente col nostro smartphone. Purtroppo non abbiamo la radio FM così come non abbiamo l'impermeabilità però abbiamo a corredo anche un ottimo GPS oltre che a giroscopio più accelerazione mentre per quel che riguarda il modem abbiamo un modem di categoria 12 che come già vi ho detto ci offre delle velocità di navigazione davvero eccezionali. E veniamo infine al comparto fotografico dove precedentemente nelle mie prove con il Realme 5 Pro beh non ero rimasto soddisfatto anzi lo avevo ampiamente bocciato in questo caso devo dire che invece al Realme 7 beh si vede che l'azienda ha fatto un ottimo lavoro proponendoci un comparto fotografico che sul posteriore si compone di un'ottica principale da 48 megapixel con apertura f1.8 a questa si accompagna un grandangolare da 8 megapixel con apertura di campo di 119 gradi ed apertura f2.3 oltre a questo poi troviamo ulteriori due ottiche una macro con f2.4 messa a fuoco da 4 centimetri più una camera per l'effetto bouquet in bianco e nero anch'essa con apertura f2.4 sul frontale invece troviamo una camera Sony sensori IMX471 da 16 megapixel con apertura f2.1 e per quel che riguarda il software beh è davvero molto molto completo proponendoci addirittura anche la modalità notte sia per la camera posteriore che per quella anteriore possiamo poi girare i video fino alla risoluzione 4k a 30 fps ma soprattutto abbiamo a disposizione la stabilizzazione UIS più un'ulteriore stabilizzazione UIS Max e devo dire che proprio questa stabilizzazione nonostante non sia ottica beh devo dire che fa egregiamente il proprio lavoro andando a definire questo Realme 7 come uno dei migliori smartphone a basso costo che riesce a registrare video tutto ciò si traduce anche in un'ottima resa fotografica sia per quel che riguarda gli scatti in diurna ma anche per quel che riguarda gli scatti in notturna certo non parliamo di un camera phone certo non è uno smartphone ai massimi livelli ma devo dire che il rumore digitale in condizioni di scarsa illuminazione non è poi così elevato e anzi me lo fa preferire a tanti altri smartphone che ho provato proprio di recente l'unico Neo che mi sento di segnalare per quel che riguarda il comparto fotografico è che quando andiamo a registrare un video non abbiamo la possibilità di switchare dalla camera standard a quella grandangolare ma conti fatti questo è un difetto che portano in sé tutti quanti gli smartphone medio di gamba e quindi ragazzi cosa dire di Realme 7 se non che è uno smartphone praticamente perfetto o meglio forse sto esagerando qualche difettuccio magari lo avrà anche lui ma parliamo di uno smartphone che costa su Amazon con spedizione Prime praticamente 179 euro attenzione però perché spesso e volentieri lui vi ha un'offerta oppure ci sono delle offerte dedicate direttamente nella pagina d'acquisto come una che proprio oggi abbatte il prezzo di circa 10 euro quindi permettendovi di portarlo a casa a 170 euro e attenzione perché a questa cifra è vero magari trovate altri smartphone magari forse tra virgolette anche un po' più performanti ma che appartengono a una generazione passata Realme 7 è decisamente un dispositivo che vi straconsiglio per l'ottima autonomia, un'ottima costruzione fa delle buone foto e soprattutto un display davvero eccezionale a 90 Hz dove qui si fa davvero la differenza con i tanti altri smartphone che abbiamo visto recentemente anche sul canale e che a conti fatti raggiungevano questo prezzo ma non raggiungevano però la soglia di soddisfazione che ci attendiamo da smartphone del genere e quindi ve lo straconsiglio e vi consiglio quindi di cliccare qui sotto in descrizione per arrivare direttamente alla pagina d'acquisto dove è presente la migliore offerta oltre che a cliccare sempre in descrizione per la recensione testuale dove approfondirò maggiormente tutti gli aspetti legati a questo Realme 7 e quindi non ci resta che salutarvi con un caloroso ciao!